Salve ragazzi, è uscito da poco il trailer finale di Avengers Infinity War. Vediamo cosa ci aspetta. Intro Rotazione a 360 gradi. Da quando lo conosco, ha sempre avuto un obiettivo. Wow, Gamora insieme a Tony Stark. Ridimmi come si chiama. Thanos. Spider-Man ancora senza costume. Abbiamo un vantaggio. Lui verrà da noi. Eccezionale. Abbiamo quello che Thanos vuole. Perciò lo useremo. Vogliono fargli una trappola. La torellina di Black Panther. Parliamo del tuo piano. Non è male. A parte che fa schifo. Al piano ci penserò io. E in questo modo diventerà ottimo. Wow. Già le battutine stile Marvel. La fine è vicina. Spettacolo. E allora? Dov'è questa mano verde? Metà dell'umanità continuerà ad esistere. O se quella è Gamora quando era piccola, perché era la figlia adottiva. Scenografia eccezionale. Perfettamente bilanciato. Come tutto dovrebbe essere. Si ricorderanno di voi. Wow. Capitano America riesce ad affrontare Thanos. Io sono Peter, a proposito. Dottor Strange. Oh. Usate nomi inventati? Allora io sono Spider-Man. Epito. Che dire ragazzi. Una cosa fenomenale, eccezionale come trailer. Soprattutto le inquadrature, i piani sequenza, effetti speciali di primo livello. I fratelli Anthony e Giorrusso si sono risparmiati le bombe per questo trailer finale. Non ci resta che aspettare poco più di un mese per vedere la prima ed epica parte della conclusione di un'epopea che dura da dieci anni. Spero che questa sorta di reaction veloce vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video.